CQSTEC 2016 siamo nel cuore dell'organizzazione, alla mia destra il brand manager è il signor Fabio Bettio. Fabio, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. Allora, siamo a questa... che numero di edizione è? 51esima edizione, cominciamo nel 1939. Quindi 51esima edizione di questa fiera storica che è cresciuta tantissimo nel corso dei decenni e che sta conoscendo negli ultimi edizioni un'ulteriore crescita. E anche soddisfazione perché abbiamo parlato effettivamente con diversi espositori. Che cosa ci puoi dire per il momento di questa edizione? Siamo al terzo giorno. Diciamo che è una sorta di rinascita di CQSTEC. Stiamo registrando dei numeri molto positivi. Ci avviciniamo appunto a circa 1200 espositori, quindi con una crescita molto importante rispetto alla precedente edizione. Il numero dei visitatori, data su data, quindi un dato parziale, informazione parziale, chiuderemo domani, quindi avremo il dato finale. Ma la crescita in percentuale è doppia cifra, già oggi molto consistente. Contribuisce a questa crescita e anche al grado di internazionalità del visitatore l'operazione di incoming di 1000 operatori. Arrivati a Parma, CQSTEC, grazie all'impegno del Ministero dello Sviluppo Economico, DICE, Fieri di Parma e la collaborazione con Colmesse. Sono circa appunto 1000 operatori da 75 paesi, un boom incredibile dal Sud America, Argentina quasi risorta. Mettiamo un po' più in seguito ai cambiamenti nella politica governativa dell'Argentina. ma anche il Brasile, ma soprattutto paesi come l'Equador, il Cile, il Perù, gli Stati Uniti e il Canada che amano la tecnologia italiana, l'area ASEAN con un forte sviluppo. A parte i numeri che piacciono a noi organizzatori fieristici, stiamo però registrando un sentiment molto positivo, dei feedback molto positivi dagli espositori, sia storici che ci seguono da parecchi anni, si ha molte nuove new entry, molti di questi sono dei brand internazionali o realtà italiane molto 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 importanti, alcune di queste alla prima edizione, alla prima volta a CQSTEC. Quindi significa che la strada intrapresa è quella giusta per favorire l'export delle tecnologie italiane nel mondo. Sì, effettivamente noi ci conosciamo da diversi anni, il vostro team comunque è sempre stato molto attento e ha impiegato diversi sforzi proprio nel discorso dell'internazionalità e nel portare visitatori anche dall'estero, cosa che effettivamente ti confermo parlando quell'azienda al di là dell'impressione, si è vista ed è stata registrata. Quindi cosa possiamo dire in merito adesso a questa nuova partnership con un'istituzione così importante come il MES? Penso sia sul panorama fieristico internazionale una delle case history più interessanti e di valore, si uniscono due quartieri fieristici con delle competenze molto simili, con molta complementarietà. Col MES la conosciamo tutti, leader a livello internazionale nel settore food con Anuga e delle tecnologie alimentari con Anuga Food Tech, noi molto focalizzati nelle tecnologie made in Italy con delle competenze e relazioni sul mondo food grazie a Cibus. Quindi è una sinergia che adesso stiamo testando su Cibus Tech con dei risultati straordinari, sia con la presenza di espositori esteri grazie al lavoro di Col MES, sia la presenza di visitatori esteri grazie proprio al coinvolgimento dei colleghi di Col MES che seguono Anuga. Il test funziona e il test continua con tutta una serie di iniziative in varie parti del mondo su progetti consolidati e strategici organizzati da Col MES, da Pro Food Tech a Chicago, Andina Park in Colombia, le due manifestazioni in Brasile e India per poi chiudere il cerchio nel 2018 ad Anuga Food Tech dove appunto come Fiere di Parma o come KPE, la nuova società costituita tra Fiere di Parma e Col MES, Col MES Italia e Col MES andremo a valorizzare le tecnologie italiane in tutti questi appuntamenti per poi ritrovarci nel 2019, quindi la famosa cadenza triennale richiesta da molte aziende, quindi un percorso o un portafoglio di prodotti che le aziende italiane hanno a disposizione per promuoversi nei paesi più interessanti come potenziale di export delle tecnologie. Ti chiedo quindi la stessa cosa che ho chiesto a Thomas Rosulli, amministratore delegato di Col MES Italia, quindi per il Made in Italy questa partnership in merito alle tecnologie potrebbe essere comunque un'ulteriore spinta propulsiva al di là del fatto che siamo comunque sempre molto apprezzati all'estero in diversi settori delle tecnologie food and beverage? Diciamo che assolutamente sì, il nostro coinvolgimento permette di aiutare le aziende italiane ad avere dei contatti preferenziali, un supporto in più al processo di internazionalizzazione, alla valorizzazione delle proprie tecnologie e i propri brand in appuntamenti internazionali, storici, consolidati da Anuga Food Tech a tutti gli appuntamenti, il prossimo sarà Pro Food Tech a Chicago dove la presenza italiana sarà molto importante, supportata da tutta una serie di attività che Cibustec e Col MES Italia svilupperanno proprio per le tecnologie italiane. Quindi diciamo le due realtà si uniscono per dare alle aziende un supporto concreto, anche il loco, quindi noi da Parma insieme a Col MES Italia supporteremo le aziende, quindi avranno più contatti a cui fare riferimento per capire dove poter andare e come presentarsi. Perfetto, grazie mille, allora buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi a tutti, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti.